Fondazione Codinelli ha deciso di sostenere e promuovere il progetto Reactor in quanto percorso formativo nei confronti di un'esperienza imprenditoriale rivolto ai giovani ricercatori e scienziati delle università e dei centri di ricerca del nostro territorio. Sono un bioinformatico, sono un chimico farmaceutico, sono un chimico industriale, lavoro un po' nel settore medicale, sono un ingegnere biomedico, sono un biotecnologo farmaceutico, lavoro nell'ambito della scienza dei materiali. Incontreremo gli scienziati e lavoreremo con loro per affinare i loro progetti scientifici che probabilmente diventeranno progetti di impresa per i più motivati e meritevoli. Il mio sogno è quello di avere una mia compagnia e un mio progetto imprenditoriale. Un imprenditore deve essere in grado di conoscere cosa c'è intorno ad esso, cosa offre il mercato, quali sono le sfide. Abbiamo bisogno di tutta quella parte non chimica, quindi marketing, gestione aziendale, economia aziendale. Essendo un topo di laboratorio, tutte queste soft skills che vengono richieste per un buon imprenditore, purtroppo ancora non le ho. È un percorso che ricomprende numerosi stimoli che vanno dalla didattica all'incontro con altri scienziati che hanno già fatto questo percorso di imprese e quindi sono diventati imprenditori, un lavoro di mentoring, di coaching da parte di mentori che sono professionisti del settore e una parte conclusiva di esperienza all'estero che è l'ideale continuazione della formazione in Italia attraverso un periodo mediamente di due mesi in sedi internazionali. Questa è un'ottima opportunità. Credo che Reactor possa offrire per noi una possibilità di acquisire nuovi strumenti e di lavorare in team con delle persone esperte che si occupano da diverso tempo di questo ambito. Capire essenzialmente cosa mi manca e come migliorare quello che mi manca. Attendere questo è un progetto che ambisce diventare il punto di riferimento a livello nazionale, il punto di riferimento della scienza che vuole transitare all'impresa.